Alla collezione di sconfitte grifate 2017 l'Ancona ne aggiunge un'altra, questa onestamente non fa strappare i capelli a nessuno perché la priorità è la salvezza del campionato e non la Coppa Italia. E poi c'è sempre la gara di ritorno per ribaltare l'1-0 con cui il Matera ha vinto gara 1 del penultimo atto della competizione. Solo che neanche col 5-3-2 sono arrivate risposte positive sul tacquino di Giovanni Pagliari. Bianco-Rossi attenti in difesa ma mai pericolosi in avanti, avevano anche resistito a due calci di rigore che la formazione di Auteri ha scialacquato salvo capitolare ad un quarto d'ora dalla fine. Non il modo migliore per preparare il derby salvezza di domenica sera al Del Conero contro il Fano. Come detto il mister Dorico ha ridisegnato l'Ancona con Vitiello play difensivo Ricci e Cacioli in marcatura da fare forgaccia sugli esterni, una linea 5 bloccata. La manovra non ha benefici anche perché l'unico che ha tempi di inserimento è Gelonese davanti momentè Paolucci non la vedono mai. La prima mezz'ora è sonnolenta, non accade nulla, poi al 34esimo il primo episodio, Zampa abbatte in area Iannini e Rigore, Negro dagli 11 metri mette fuori. Al 42esimo calcio di punizione di Strambelli, Anacora si allunga e mette in angolo. Il numero uno Bianco-Rosso si ripete tre minuti più tardi sulla percussione in area di Rigore di Armellino. All'intervallo si rientra in equilibrio nel secondo tempo, ricomincia ancora il Matera e dopo sei minuti altro tiro dal dischetto. Braccio largo di Bambozzi su cross di Strambelli per la direzione di gara sufficiente per la massima punizione. Come Negro anche il 10 di casa si fa ipnotizzare da Anacora che serra alla propria porta. Un minuto più tardi altro intervento sul primo palo su conclusione ravvicinata. Ancona ancora in piedi pur rimanendo sulla difensiva. Al 66esimo colpo di testa degli Annini ancora Anacora a opporsi. Il match si sblocca al 75esimo. Prova a mettere fuori da Fara. Arriva Casoli che lascia partire un sinistro che si infila sotto la traversa e non lascia scampo ad Anacora. Matera meritatamente in vantaggio. E i Dorici? Tutto è solo in un destro da fuori di Zampa che Tozzo limita senza particolari patemi. L'unica nota positiva rimane la ventina di tifosi biancorossi sugli spalti del 21 settembre. Appuntamento a mercoledì prossimo per il ritorno. Ora testa al Fano e al derby. Salvezza. 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 Grazie a tutti.